salve amici del vaso di pandora l'asso di picche va strameritatamente a beppe grillo no non solo per la sgangherata uscita difesa del figlio ciro indagato per stupro è solo l'ultimo episodio di una vera e propria discesa agli inferi umane politica dell'uomo mi spiego grillo è ormai da tempo l'ombra del grillo che fu ai piani alti dei 5 stelle non lo sopportano più anche perché rispetto al passato non è più lui non è più il suo carisma a garantire il consenso al movimento quindi oltre che dannoso è anche inutile ma andiamo con ordine al di là di come la si pensi sul movimento 5 stelle merito storico a grillo va riconosciuto dare aver dato corpo e voce al bisogno di alternativa all'intero sistema politico partitico in italia partendo da un blog e dalla la sua notorietà personale chiaramente che all'origine era una fucina di pensiero critico senza troppi tabù no c'erano diciamo gli spunti contenuti dei suoi spettacoli per cui era tanto popolare dal blog ha creato una forza che si è evoluta da una sorta di movimento civico di massa fatto più che altro da delusi di sinistra una forza trasversale che metteva assieme idee e motivi che andavano oltre gli steccati ideologici del novecento quindi una forza sicuramente confusionaria ma vitale sicuramente con debolezze di fondo che poi si sono e si stanno ancora amaramente scontando ma comunque un esperimento che non aveva paura di mettere in discussione certi totem sacri come la democrazia falsamente rappresentativa o la crescita infinita di tipo neoliberista la veramente del movimento chiaramente non era lui ma casaleggio senior già roberto che aveva alcuni tratti vagamente inquietanti no come l'idea stessa di digitalizzare l'intero processo politico a partire dal voto ma aveva testa grillo invece sempre stato più di pancia più il frontman più quello che va per intuizioni che non per ragionamenti più sull'onda della necessità che seguendo una strategia no come quando un bel giorno scoprì che non appena un'organizzazione collettiva una qualsiasi organizzazione fa un salto di scala si crea al suo interno una divisione chiaramente quindi dissenso e ha bisogno di una guida sicura e quindi si autoproclamò capo politico che era una necessità evidentemente ma ci si poteva arrivare facilmente anche prima morto casaleggio è passata la palla ufficialmente a di maio agli altri figliocci politici dei due casaleggio di grillo quest'ultimo non ha voluto e a mio modesto avviso non ha neanche saputo sciogliere i nodi che ora stanno stritolando la sua creatura è rimasto nell'ambiguità è stato grillo il regista di tutte le giravolte le incoerenze è stato grillo ad aver imposto al movimento di accucciarsi definitivamente di diventare una costola integrata del sistema che voleva disintegrare è stato grillo a voler posizionare il movimento 5 stelle in una diciamo nel ruolo accessorio che può avere un così una versione italiana dei verdi tedeschi con quella supercazzola che è la transizione ecologica è stato grillo che ha insomma rinnegato se stesso abbiurando quasi completamente le parole d'ordine del passato una spia si poteva intravedere già fin dal titolo del suo ultimo spettacolo da comico che si chiama appunto grillo contro grillo perché l'ex fustigatore intuisce di non essere più quello che era e infatti si comporta come chi non è più in sé il video no sul figlio in cui in pratica anziché favorirlo lo mette in difficoltà è il segno di un uomo che lo dico senza a credine dovrebbe ritirarsi dalle scene non lo so ma dalla vita politica senz'altro primo perché darebbe un segnale controcorrente rispetto a quell'andazzo generale che vede persone che ormai hanno ampiamente dato rimanere inchiodati alla seggiola vita natural durante ci sono esempi innumerevoli di questo non solo in politica ma anche in economia nelle professioni no dove si vedono questi matusalemme che devono essere persone spiritualmente anche molto povere diciamo per non lasciare nemmeno ma non dico a 60 ancora si è giovani o a 70 anni ma neanche 80 suonati secondo perché ormai grillo ha perso il contatto con la realtà dell'italia di oggi che con le catombe prossima avventura di posti di lavoro vedrebbe vedrà rinascere una stagione in cui servirebbe come l'ossigeno una forza battagliera come era il movimento fino a qualche anno fa fino o delle origini insomma e non quella brutta copia del pd che è ora terzo perché proprio la vicenda del figlio segnerà grillo e la sua famiglia per anni perché sappiamo i tempi biblici della giustizia italiana e questo non potrà che aggravare il suo stato di palese non lucidità che solo a sprazzi così ogni tanto si rifa viva per esempio quando giustamente si è intignato almeno finora finché non cambia idea nel non voler derogare alla regola dei due mandati che invece i poltronizzati grillini non vedrebbero l'ora di abolire per trasformarsi definitivamente in carrieristi della politica della parabola di grillo è quella di chi voleva liberare l'ovile dai lupi e ha finito con iscriversi al branco dando pure di matto ecco qui invece ci sarebbe bisogno di riprendere il filo dove lui l'ha interrotto perlomeno riproponendo quell'opera di cultura di divulgazione di sensibilizzazione che pure lui fece sui tempi contro quello che qui al vaso di pandora chiamiamo il partito unico liberale a cui ha aderito anche il movimento 5 stelle ecco l'ultima sparata è solo la conferma di un triste declino era meglio calare il sipario prima per non finire prigioniero della propria maschera come il protagonista questa volta vi suggerisco un romanzo l'uomo che ride di vittorio hugo ecco che dire grillo ormai non fa più neanche ridere